Allora ragazzi, oggi vi insegno l'inglese. Facciamo un esempio pratico dell'inglese. Questi hanno principi, diciamo, della lingua inglese. Allora, where are you from? Di dove tu sei? Allora, lei mi dia... Allora, dia un pochino indietro le lezioni, mi sa. Di che anno e tu sei? Allora, sarsi in piedi, la sarsi. Mi raccomando parlare anche molto rettamente l'italiano. Per esempio, io ho detto la sarsi perché il verbo alzarsi. Capito? Io marzo, te tu tarsi. Io bevo alla cannella, te tu bevi alla cannella. Lei la beve alla cannella. Allora, ma ritorniamo all'inglese, non andiamo fuori schema. Ma facciamo un esempio. Marco cammina per il mondo. Mark, walk in the world. Capito? Ripetetevi o me? Mark, walk in the world. Allora, ci siamo? Allora, lezione numero uno. Marco andua cammina per il mondo. Ma adesso passiamo alla matematica. Allora, tre più tre fa sei. Capito? Ma meno uno, cinque. Allora, ci imbrogliano la matematica. Perché tu mi fai fare tre più tre e poi dopo tu millenere uno e fa cinque. Tu facevi prima fare tre più due? Voglio dire, attenzione. Queste erano cose proprio diciamo. Ma torniamo all'italiano. Bene, adesso ditemi una parola che inizi con la G. Per esempio, gnamo e si ha a mangiare le paste. Una parola inizia con la G. Gnamo, per esempio, è un esempio di parola. Ma adesso prendete il libro di scienza, si fa scienze. Allora, scienza con la G, mi raccomando. Perché un aereo per andare da Roma alla Cina fa il giro alla rovescia? Perché la terra la gira. La terra gira. E girando, capito? E figlia, diciamo, perché infatti il vento? Perché esiste il vento? Perché la terra la gira. E girando si sposta il vento. E così nasce, diciamo, temporale, sole e nevea quando la si ghiaccia. Perché la gira troppo forte. Ma adesso prendete il libro di storia, si fa storia. Allora, chi gli hanno quegli che facevano le catacombe sotto terra? Gli etruschi. Ecco, etruschi. Andiamo a scrivere alla lavagna. Perché gli etruschi facevano le catacombe sotto terra perché ci stavano più freschi. Ragazzi, mi raccomando, ripassate perché domani è in terra.